Musica Bellissimo a tutti raga, oggi siamo finalmente tornati su Among the Sleep Quel gioco fantastico che avete visto la scorsa volta e che mi sta sinceramente piacendo molto Prima di iniziare questo video vi chiedo semplicemente di iscrivervi, attivare le notifiche e ovviamente anche di lasciare mi piace Detto questo possiamo anche continuare da dove c'è il ramamo lasciati l'ultima volta In questi fiori giganti praticamente Non si può definire paradiso ma non è male perché ci sono altalene in forma di cos'è quella roba più caldo Un gufo, questa roba sta girando tipo una giostra, tra l'altro giostra stile steampunk Ehi, oltre a punti sembra esserci un altro ricordo Ma è fantastico, dobbiamo solo prendere quel ricordo Divertente però eh Quindi dobbiamo attraversare il fuoco Perché ci sono dei gufi più che altro Per me tab, beh, apri Ah, bisogna mettere i gufi allora È un'altarena I gufi se vuoi che fai da peso, è ovvio Quindi dobbiamo cercare altri gufi per usarli come contropeso Questo è il terzo Cosa sta succedendo? Perché è l'improvviso si è fatto tutto buio? Perché l'improvviso si è fatto tutto buio? No, 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 no Perché si è fatto tutto buio? Dobbiamo fare attenzione Non mi dire Il cancello che si è preso non è mai un buon segno Salute Tipo ai vecchi in cantiere Ok, questa è bloccata Ho una porta ed è anche bloccata Un coso Ok, qui secondo me c'è un altro gufo Perché sento il mio battito cardiaco Che sta a me la madonna Che gufo Ok Cosa esser tu? Ehm, bello Qualcuno, qualcosa mi ha chiuso qua dentro Però lascia un gufo quindi tutto va bene Ricordiamoci che si può cadere E che se cadiamo ci facciamo anche male Cos'è questo? Ho quattro gufi eh Sono arrivato da qualche parte Che non so ne pure io come ci sono arrivato sincero Allora Da qua sopra È un sasso Possiamo anche prenderlo e spostarlo Questa è la logica dei videogiochi Aspetta Ok ho capito Sposta la ruota E boom Non è così difficile spostarla comunque Dai non puoi essere rimasta incastrata Dai Dai Ok Vabbè L'ho preso L'ho preso Anche l'ultimo gufo e poi Perché ci sta quella giostra Che donna da sola Boia ladra No 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 Ci sono dei brutti rumori Chiudi madonna santa Quindi quei cinque gufi vanno più che bene No ne manca uno va Ma quella giostra è prima Ci sono anche dei brutti rumori Bene Allora Prendi l'ultimo gufo Andiamocene Perché non vorrei Che qualcuno mi vedesse in questo punto Ho visto qualcosa e non mi piace sinceramente No 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 Io non torno più a quello scivolo di merda Che brutta cosa Metti l'ultimo gufo Andiamocene via per favore Oddio Che poi io Cioè nel senso ci sono i rumori Ma non si vede la figura Va bene Non si sa chi ha fatto queste strutture Dentro Una specie di mondo Che non si sa cos'è Però ok Intanto C'è una bicicletta Ma perché Oh stiamo per prendere un altro ricordo Ok Che bello Si è anche chiusa la porta Che bello Si è anche chiusa la porta E va bene Anche ora un altro Il camion E la madonna Che bel ponte Finalmente dovremmo essere vicini Da cosa hai capito Dal ponte arcobaleno Ok Prendiamo lo scivolo E andiamo giù Oh che bello Siamo tornati Piccole bambine Che fanno percorro Non mi dai le porte in faccia Brutto stronzo Sarà così in pensiero per te Beh Ormai sai come fare Sì lo so Ok sappiamo Ho fatto Questo è un terriese Oh e anche quello rosa È andato Teddy o la tocca a te Andiamo Non c'è tempo a perdere Dai Occhio dove metti i piedi Non ti preoccupare Non sono così ricordo Teddy Praticamente siamo dentro casa adesso Bene 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 ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un mi piace Commentate se volete Commentare Condividete Canale Twitter Instagram Twitch Tutto con la descrizione Iscrivetevi Attivate la campanella Per non perdere nessun video E noi ci vediamo Nel prossimo capitolo Bellissimo Ciao a tutti 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 Grazie.